Il ruolo molto attivo della città metropolitana con la sua polizia insieme a quelle della provincia di Caserta per controllare il territorio per prevenire quei disastri che nel passato hanno caratterizzato le nostre terre. Oggi invece c'è un impegno forte delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della prefettura e già dei risultati molto importanti abbiamo conseguito come città metropolitana di cui sono sindaco.